Dal vivo! Cosa stai cercando? Me! Non esiste un'ammazza Batman! Oh, che cazzo! Ma dovevamo provarci! Robin era qui! Ma senza successo! Batman uccide Robin! Un ottimo esempio di taglio del personale! Raggiungi Oracle! Nightwing e Jason, se lo trovi! Fate affidamento su tutti i nostri anni di addestramento specializzato! Oh oh! Disciplina! Lealtà alla squadra! È un momento emozionale, caratino! Nessuno ce la fa da solo! La squadra che guidi... È la famiglia che scegli! Insieme sarete grandi! È quello che mi hai insegnato tu, figliolo! Contegno, squalo! Squalo! Ma stai... Piangendo! Beh, ho un rapporto complicato con mio padre! Benvenuto nel club! Mi dà un permesso! Hai conosciuto! Ora, Superman è il nostro amico, ma... È anche l'essere più pericoloso ad aver messo piede sulla Terra! Se volete una possibilità di sconfiggerlo! Questa è il nostro amico!